Giugno 2008 nasce l'associazione Play and Record, fondata da Jacentino e Rossi. In pochi anni, grazie al grande impegno del duo e del loro collaboratore Giuseppe Mendella, diventa associazione interregionale all'indirizzo artistico e pubblicitario. Il suo scopo aziendale è quello di offrire più servizi, dai corsi vocali e strumentali con progetti discografici e concertistici per gli allievi, alle dirette streaming sulla propria multiplattaforma, produzione di dischi anche su piattaforme internazionali come Spotify, iTunes, produzione di tour e concerti, produzione di spot pubblicitari per le aziende sponsor. Il gruppo Play and Record è etichetta discografica, studi di registrazione audio-video, service audio-luci, concessionario di pubblicità per eventi di propria produzione e accademia musicale. Vieni nei nostri studi, via Montedoro 93, Torre del Greco, Napoli. Ti aspettiamo!